bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come vedete oggi ho la facecam e siamo su league of legends insieme a atrox bella ragazzi che lo vedete qui questa brutta persona siamo nella 1 per tutti insieme a con darius e spacchiamo i culi non d'ordine giocati o no ok siamo in partita andiamo gianna io e atrox anche se qui si chiama gianna 2002 atrox e andiamo bot ce l'ha il teleportero buona ma ti puoi anche far vedere vabbè con noi c'è anche lui lui sembra un'altra cosa togliti comunque comunque mi lagga io non ho mai sapere da giù ma chi te l'ha chiesto io ti grabo grabo si vabbè 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 comunque mi sa che abbiamo l'ulubot no ma davvero eh mi sa c'è ma non lo hai mai detto ma non lo hai mai detto ma non lo hai mai detto cos'è iniziato yah brutta ah mi sentirebbe che un po' spiegare la porta eh mica poco già ne arrivo arrivo al secondo darius booo ecco e lagga si va bene non sai che ne prendiamo una volta eeeh the damage comunque si ha messi male allora cioè io faccio uno di farm non so se intendo braaa aim darius main ho portato la 1 per tutti perchè appena oggi sono entrato su league of legend ho visto subito la modalità l'ho detto perchè non portarla visto che da tempo che non porti video bravo bravo gianna bravo gianna bravo gianna go out gianna bravo bravo sto arrivando hai il grab no ma scud che cos'è che era persa la botlin ma 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 ecco anch'io mamma mia quanto lagga mamma mia quanto lagga ok andiamo già ne andiamo a a comandare bravo compiere Luigi in tangenziale compiere Luigi in tangenziale compiere Luigi in tangenziale mamma mia quanto che è la domanda lei fa ah no non so dove sei fatto tu e magari comunque sai che cos'è meglio l'hulu spreca un botto di mana invece noi no brell bel treggiano il bel non l'ha mai usato il bel è forte si 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 sta ceppa ahia lo scudo posso non sopravvivere lo so volevi pensavi di essere il cespuglio o facevi posta? non lo facevo posta ok mi piace il cespuglio c'è lui lascia 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 aspetta non ho mai no non ti preoccupare no l'importante è che loro qua non formano io amo gli chiliamo vai gianna ti lascio Grandi Bellissimo questo trade Gengiskan Ragazzi Nei commenti Hashtag Gengiskan Giusto? Grazie Hashtag Soprattutto Gengiskan Sapete perché? Perché noi abbiamo tantissimi iscritti Sì sì io ho 12 ma lui 7 Sì sì No mai faccio più video di te Sì sì Mi chiede anche come tagliarli video Mutò 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 Eh sì io non so di dare O se ci posso fare Non fate io non mi muro Non fate per questo non seguire Allora ti dico solo che fino adesso in tutti i video che ho fatto Non ho fatto un taglio Quindi Eh li faccio in questo video Eh li faccio in questo video Eh certo io mi prendo il danno all'inizio No io mi prendo il danno e poi la vita Guarda Dan Niente No via 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 Volevi Volevi Eh sì come l'ho detto Volevi va bene vabbè lasciale fare ti sto rubando tutta la far mamma mia eh lo so perchè io sono concentrato vieni via vieni via no Gesù Beduino Gesù Beduino ma vabbè sono troppo in silenzio sono troppo concentrato eh che c'è non si può cantare oggi in questo video uscirò come mezzo handicappato fa 10 minuti eh mi raccomando Giana dove stai andando il punto di domanda nooo su 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 per le montagne blu vieni via Giana ricolla no vabbè rimani arrivo io usa il teleport ok bella bella where are you down eh lo so che sono un bel canterino di bravi bravo 2 takes 4 oh b 2 takes 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 riprendendo dietro guardare un'altra per farlo E' il mio champion preferito in top lane Vabbè Io più farmo Nope Ho failato Andiamo di nuovo da dietro Chi se ne frega se c'è la torre Aspetta lasciamo andare avanti Andiamo 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 Come on come on Perché ho usato la Ma cosa hai deciso Certo Eh ma perchè io faccio il danno Non l'hai ancora capito Certo Già la mia Già la mia Già la mia Stavo tenendo la torre E' buono Scusate se sto zitto Però sono veramente concentrato Sono veramente concentrato Oh Anche euforico Perché sto facendo 603 Vado Oh se non prendo S L'umorismo Facciamo il drago Guarda Ma fanno schifo sti qui E se io andassi a fare il drago Eccolo 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 Che gioca che adesso io alle perde Eccolo Eccolo Monarigno 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 A lotno Damage A lotno Damage Dai Un saluto Un saluti Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Vabbè, ma chi l'ha presa come un cretino? 8, 1, 3 4, 2, 7 Sì, c'è il cane, c'è il cane, ho un cane, ho un cane, tranquilli, eccolo, eccolo, Monarigno Allora Ma, c'è, da, da, io c'è OP Oh, c'è, c'è una che sta arrivando mid Ah, ma tra l'altro lì qua ha la skin Gianna, io vado top, vieni Jajaja no no io stavo tirando la cu grande mamma mia video dai faccia vedere la tua faccia l'italia ha vinto mamma mia che me ne frega oh farresti tu eh ah ma io sono un cretino io sto facendo la mia la cosa che stavo facendo prima e quindi io mi devo fare questo e siamo rimasti soltanto in due chi dice no? tutto il lavoro John Tang ti giuro che sta bene cioè sembra un handicappato ah no adesso inizio anche a offendere vi ricordo i commenti hashtag gengiscan ve lo ricordo oh mi stai prendendo giro ah vai gianna go 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 to kill ok ah lascia 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 che ci muore Doppia uccisione Dai che voglio la tripla Va là va là Sacco gli pulci Eccomi lagga Ecco no 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 Ah ecco Oddio Ok No rega che è un problema E lui muore Ma perché è un bel cavallo So Ehi no ma cosa ritorni in base Nope 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 Le parole Non lo prendo ancora Furia Andiamo dal drago va Andiamo dal drago va Andiamo dal drago Vabbè io vado dal drago Poi tu te la mangi Guarda 1424 Guarda 532 Sai lì cosa ci sta Una bella pentakill No sono in cinque Ah si sono in quattro Vieni qua Vieni qua Guardale Guardala qui Guardala Dove vuoi andare Eh Lezza Guarda che l'altra è qua Mamma mia la potenza La potenza La Q Ogni 4 secondi Report Orrbat please Ok N Tutta la mera farm Dai che Fate prima da rendervi va Infatti facci schicchiù Facci schicchiù Dai tutti Tutti addosso Boh Ahia Ma fa male Eh l'amato Eh il bordello Eccolo Eccolo Ok Madonna Con qua Ehm Mi devo regolare Zii E si arrendono E si arrendono E si arrendono Troppo Forti Ehi ciao Tu che stai guardando Metti I like Iscriviti al mio canale Bene ragazzi Bene ragazzi Bene ragazzi Questo video ci conclude qui Abbiamo fatto una partita Uno per tutti Con Darius Spero che vi sia piaciuto E io quanto ho preso Non ho preso S Vabbè Eh spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E Bella ragazzi Ciao ciao Io che mi manù Dei E già al 4% Facciamo un'altra No Come no Alle 7 Ma nulla per te Io volevo fare un'altra Uno per tutti E vabbè Scegliamo 12 13 13 No no Si spacca la sede Sei un cartino Già no Fai partire tanto il countdown Perché 20 minuti Sì sì Eh Vuoi che lo faccio io di nuovo Che lo faccio comunque Ti dà fastidio se Registra mentre lo fai tu anche Cioè così ne metto uno domani anche Cioè mentre tu Mentre tu registri la tua partita Io registro che l'ho Che piaccia il Che piaccia Che piaccia Che piaccia no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.